e ciao ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video sono sanzi sanz e oggi sono su minecraft ho voluto fare minecraft oggi monumento oceanico in beast ok 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 fatto ovviamente supervivenza cassa bonus mappa di avvio cominciamo direi di cercare la mappa la cassa bonus che deve essere per forza essere qua vicino no la cassa bonus mi ha fatto comparire lì ok mi ha detto io di quello che mi ha detto che ho fatto inserire non c'è un po' qua perci e dov'è la cassa bonus forse non l'ho messa pazienza trovata trovata l'ho trovatissima trovatissima dopo facciamolo oddio no non ci credo oddio basta con sta vappa anzi vai facciamolo poi addirittura tra questo vai poi vediamo un attimo tipo il questo come ciò ah è nella crafting table ok allora prendiamo la crafting table mettiamola qua ok aspetta cos'è i ciotoli i ciotoli andiamo a prendere i ciotoli aspetta il letto come si fa il letto letto no letto letto bianco vedo chiaro no vabbè il letto in generale non c'è no vabbè il letto rosa come si fa no non ci credo cos'è vabbè non voglio sapere va bene eh ah è vero che sono praticamente sono in un'isola ok si è vero me lo sono dimenticato aspetta c'è un attimino sono iron man che bello cioè se non lo vedete che è strano è più giallo che rosso perché è una delle prime armature che si vede nel terreno di iron man però non la usa è una di quelle però non la usa io direi di andare giù sott'acqua adesso noto che ho visto qualcosa già direi di andare con questo perché così tappo il buco vado 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 più giù giù vedo delle cose troppo belle raga c'è vedete oddio cosa sto vedendo cosa sto vedendo raga avete visto oddio no c'è un guardiano c'è un guardiano più di uno direi io ok io ci vado eh vado 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 andiamo andiamo sotto 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 Sotto, vai sotto, sotto. Vai. Vai sotto, vai sotto. Io vado, io vado, io vado, io vado, 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 vado. Vado, 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 vado. Bene, raga. Io continuo così, eh. Oddio, che figo, ragazzo. C'erano i guardiani. Non c'erano i guardiani, non ci credo. Five Nights at the Custom Night. Era quello, raga, era quello. Era quello, ma vai su. Ma che problemi ha sto coso? Eh sì, lo so, lo so che fa male. Oddio, raga, no, io vado proprio, vado. Ok. Ci siamo quasi, raga, eh. Ci sono dei cosi, però, che non che facciano come Custom Night. Devo fare, non lo so perché non li ho mai visti, però, ci sono i delfini. Ah, ne vedo uno là, è quello il problema. Vabbè. So cosa devo fare, però io non ho più le cose, quindi. Ah, non ho più le cose. Ah no, sono là. Ah, e le prendo qua, dai. Non lo sapevo. Ok, andiamo a prendere le cose, poi andiamo. Ok, raga. Vai, prendiamo a prendere sto coso. Ok, l'ho preso. Lascia. E poi... Sì, ok, ciao, grazie. Fa affogare sto coso. C'è un cucchiaio. Vabbè, raga. Io concludo con l'episodio, spero che vi è piaciuto. Io muoio in pace. No, io ci voglio provare, però appena devo prendere i mattoncini. Ah, no, ce l'ho, ce l'ho. Quattro basteranno. Vado, 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 vado. Vado perché io sono forte. Vado, vado, vado. Vado, ce la faccio, ce la faccio. Copro. Non ce la farò mai. Vai, copri. Non ce l'ho più. Cavolo, morirò male. Addio. Addio. E concludo con l'episodio. Ok, vi faccio questo mondo. Che era quell'oceanico. Non l'avete visto? Perché ho tagliato. Bella raga. E che era? Grazie.